Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24 News, apriamo con la sanità, questa mattina ad Andrea conferenza stampa dei sindacati FNP CISL Baribat e CISL Baribat per denunciare i problemi legati alle liste d'attesa. Vediamo. Liste d'attesa infinite e crack della sanità pubblica e quanto denunciano FNP CISL Baribat e CISL Baribat. Questa mattina ad Andrea i segretari Giuseppe Boccuzzi e Vincenzo Lezzi hanno illustrato l'avvio di un'avvertenza che non ha precedenti e che parte proprio dall'aula consigliare del comune di Andrea. Questa battaglia è una battaglia di civiltà perché ormai sono sette anni che proviamo a confrontarci con le istituzioni a partire dal governo regionale e arrivare ai direttori generali perché venga migliorata l'offerta sanitaria che consente il diritto delle cure ai cittadini. Abbiamo chiesto in queste ore, in attesa che voi facciate le assunzioni di cui siamo carenti, utilizziamo le risorse che al momento sono disponibili per acquistare le prestazioni necessarie per migliorare l'offerta. La CISL Baribat ha iniziato da qualche mese, abbiamo iniziato nella provincia di Bari, da oggi invece inizieremo una serie di assemblee cittadine sul territorio della BAT. Daremo la possibilità di rivolgersi ai nostri sportelli per esercitare appena il diritto alle cure. I cittadini noi li consigliamo di farsi stampare la prenotazione, anche se va ben al di là dei tempi di attesa individuati nell'impegnativa del medico di base e assisteremo loro per dare una segnalazione attraverso dei moduli che abbiamo predisposto per chiedere un intervento immediato affinché quella prestazione possa essere riportata nei tempi previsti dalle lettere indicate dal medico di base. Novità nella vicenda degli azionisti di Banca Popolare di Bari, la banca si apre ad un nuovo percorso da condividere con la politica i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa organizzata dalle associazioni dei soci. Ascoltiamo. Questa è la novità di oggi che la Banca Popolare di Bari si è impegnata insieme a noi a fare questo percorso con la politica per risolvere questa problematica. Si potrebbe aprire un nuovo percorso per gli azionisti della Banca Popolare di Bari, uno spiraio di luce nella vicenda buia, chiatanai e risparmiatori dal 2019. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa organizzata dalle associazioni dei soci, in seguito ad un incontro avuto con il CDA della banca. Abbiamo ricevuto un'apertura importante dalla banca, la banca è disponibile a fare un percorso insieme a noi che ovviamente è rivolto ai nostri parlamentari e alla politica e noi infatti nelle prossime settimane incontreremo le rappresentanze politiche e parlamentari di tutti gli schieramenti che sono i pugliesi piuttosto che i baresi per consegnare proprio un disegno di legge, una proposta di legge, un emendamento che loro speriamo potranno inserire prossimamente in qualche percorso parlamentare per così finalmente definire quello che per noi è proprio stata una ferita profondissima perché ribadisco ancora una volta 70.000 azionisti da un giorno all'altro incolpevolmente hanno perso tutti i loro risparmi e come è accaduto per le banche venete noi ora chiediamo che i parlamentari del sud si impegnino per ristorare i cittadini del sud perché noi siamo stanchi di fare soltanto caos e siamo stanchi soltanto di vedere processi penali che si aprono e siamo costretti a costituirci parte civile e noi vogliamo una soluzione definitiva, pacificatoria di questa brutta situazione Noi dovremmo per forza rivolgersi almeno ai nostri politici, i nostri politici locali finora sono venuti dietro però dal punto di vista fattivo non si è concluso molto assolutamente Sviluppo e sostenibilità delle aziende pugliesi se ne è parlato in un convegno organizzato da Confindustria Baribat ospite il professore emerito di scienze dell'organizzazione dell'Università Milano Bicocca Federico Butera Ascoltiamo L'organizzazione del lavoro è un elemento fondamentale per lo sviluppo ma rappresenta ancora un punto debole sia delle piccole e medie imprese sia del settore pubblico della Puglia e del paese è il tema alla base del convegno organizzato a Bari dalla società Orienta con la collaborazione di Confindustria Baribat ospite il professore emerito di scienze dell'organizzazione dell'Università Milano Bicocca Federico Butera La Puglia è interessata da una lenta riorganizzazione delle imprese verso forme più moderne e strutturate Union Camera rileva infatti che nel 2023 le società di capitali sono aumentate a un ritmo però lievemente più accelerato che nel resto del paese Le nostre imprese hanno un problema di dotazione di una spina dorsale che cosa vuol dire? Vuol dire che difettano mediamente, questo ci dicono i dati di quelle metodologie organizzative, quegli schemi di governance che le rendano pronte alle sfide di un tempo veloce e complesso come quello che stiamo vivendo Quali sono le strategie migliori per poter fare tutto questo? Anzitutto occorre dotarsi di schemi di governance moderni vuol dire dotarsi di consigli di amministrazione, di tecniche, di metodi Si può fare molto e quindi le iniziative di sostegno, di sviluppo delle piccole e medie imprese non soltanto con supporti finanziari ma con supporti organizzativi, tecnologici e formativi possono fare la differenza Le piccole e medie imprese pugliesi del nostro sud sono piccole e medie ma devono crescere e crescere in un ambiente positivo Noi abbiamo bisogno che le ZES funzionino Se funzionassero le ZES saremmo veramente avvantaggiati Avremo disponibilità di fondi perché oggi abbiamo disponibilità di fondi con il PNR, con la nuova programmazione 2021-2027 con la disponibilità della nostra regione che ci mette a disposizione tutta una serie di bandi e di opportunità Informare ai cittadini su una patologia sempre più frequente Domenica 11 febbraio torna a Bari il villaggio dell'epilessia un luogo d'incontro e informazione con esperti Una persona su 100 soffre di epilessia il 70% riesce a tenere un controllo delle crisi con la terapia farmacologica il 30% no ed è considerato farmacoresistente Sono i dati relativi alle persone affette da epilessia in Italia Una patologia sempre più frequente Per questo motivo è stato organizzato dall'Associazione Italiana contro l'epilessia e la Lega Italiana contro l'epilessia con il patrocinio del Comune di Bari il villaggio dell'epilessia Una iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione sul tema e contrastare ogni tipo di stigma Il villaggio sarà ospitato domenica 11 febbraio negli spazi dell'ex tesoriera comunale di Palazzo di Città e sarà un luogo di incontro e di informazione fra cittadini ed esperti sulle varie tematiche che riguardano questa patologia dalle cure dei diversi tipi di epilessia alle problematiche della maternità o all'inserimento socio-lavorativo Il villaggio è uno spazio in cui i medici e noi di Aice accoglieremo tutti i cittadini non necessariamente quelli che soffri di epilessia ma anche chi vuol sapere di più di epilessia perché prima o poi nella nostra vita ognuno di noi impatta con qualche episodio come la cronaca ci ha dimostrato in questi giorni con il caso Foggiano Il villaggio che deve dare prima di tutto consapevolezza alle persone perché l'epilessia non deve far paura Quali passi avanti si sono fatti nelle terapie? Nell'ultima decade i passi avanti che sono stati fatti, sempre ancora pochi però già dobbiamo essere contenti sono i passi avanti nell'ambito della terapia di precisione L'evento sarà una delle iniziative previste in città in occasione della giornata internazionale dell'epilessia voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che quest'anno si svolge in tutto il mondo il prossimo 12 febbraio E torniamo con la giornata del farmaco in Basilicata Un aiuto sincero che fa bene al cuore di chi dona e alla salute di chi riceve Anche quest'anno si svolge la giornata di raccolta del farmaco che dura una settimana fino a lunedì 12 febbraio Si tratta di una iniziativa con cui viene chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi In Basilicata la raccolta si tiene 65 farmacie, 48 in provincia di Potenza e 17 in provincia di Matera I farmaci raccolti sosterranno 28 realtà benefiche del territorio lucano che assistono circa 5.000 persone bisognose La speranza è quella di superare i numeri dell'edizione del 2023 dove sono state raccolte 5.645 confezioni di farmaci pari ad un valore di 45.728 euro Noi abbiamo messo a disposizione i farmaci che il banco farmaceutico ci ha chiesto perché ogni farmacia è abbinata a un ente che poi si occupa di solidarietà sanitaria Quindi ci sono tutti i farmaci un po' per tutte le esigenze e anche di vario costo Quindi ognuno può contribuire per quello che vuole, il momento è difficile però tutti possono dare il minimo contributo Proprio perché il momento è difficile e nessuno debba scegliere tra mangiare o curarsi E invece purtroppo ogni giorno viviamo questa realtà Il Red Bull Cliff Diving torna a Polignano il 29 e 30 giugno l'annuncio alla Beat di Milano Tuffi mozzafiato e volteggi adrenalinici in uno dei paesaggi più suggestivi della Puglia Torna a Polignano la Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze La manifestazione è stata annunciata durante la Beat di Milano e andrà in scena il 29 e il 30 giugno prossimi Un volo in caduta libera che parte da circa 27 metri di altezza per la categoria uomini e 21 per le donne Una vetrina importante per il territorio, ha sottolineato il sindaco Vito Carrieri presente alla Beat Che fa sistema con il resto della strategia messa a punto per la promozione del territorio A Polignano effettivamente è un'icona per il turismo pugliese e anche nazionale Adesso diventa importante mantenere e se possibile ancora di più qualificare l'offerta turistica di Polignano E allora noi manteniamo, consolidiamo gli eventi più importanti, quelli che ormai ci hanno riconosciuto in tutto il territorio E quindi abbiamo riconsolidato l'appuntamento con Red Bull e i tuffi Ma anche con il libro possibile, il festival che ormai letterario ha assunto un livello nazionale di importanza Ormai condiviso da tutti Meraviglioso Modugno che è il festival Canoro dedicato alla figura del nostro concittadino Quest'anno da un giorno diventa tre giorni e quindi cominciamo con le prime novità e le innovazioni che vogliamo mettere nel turismo Meraviglioso tre giorni e con una importante collaborazione con l'orchestra sinfonica di Sanremo Questi sono degli aspetti che qualificheranno chi verrà a Polignano sul palco in onore di Domenico Modugno E andiamo ancora avanti, il Carnevale Storico di Aliano Ieri sera protagonista al Mercato Centrale di Milano Raccontiamo una tradizione promuovendo la Basilicata, ha detto il sindaco Luigi De Lorenzo Il fascino del Carnevale Storico di Aliano conquista ovviamente l'Italia Lo ha fatto negli anni passati, lo fa anche quest'anno, tappa al Mercato Centrale di Milano Allegria, energia, i colori del Carnevale e tanta voglia di festeggiare Ma dopo il Carnevale Storico in Tur nei luoghi di Carlo Levi, Torino, Roma e Firenze Oggi siamo nuovamente, ritorniamo al Mercato Centrale di Milano Grazie alla collaborazione di Umberto Montano, il presidente del gruppo Mercato Centrale Italiano Che da sempre sostiene le nostre iniziative culturali, soprattutto il Carnevale Storico di Aliano Avete previsto ovviamente un momento di festa, aprendo le porte del mercato E festeggiando con i colori del vostro Carnevale Sono venuti in tanti d'Aliano qui? Sono tantissimi d'Aliano, circa 60 persone per portare questa nostra antica tradizione in Italia E non solo perché abbiamo dei progetti importanti per far conoscere ancora sempre di più Questo Carnevale Storico riconosciuto dal Ministero della Cultura dal 2016 Su cui stiamo lavorando in maniera energica Anche con dei laboratori per non disperdere l'accumulata tradizione del Carnevale alianese Ebbene è tutto, grazie per essere stati con noi, lì nella regia